Qual è la posta in gioco di queste elezioni europee? La posta in gioco adesso è il rischio di avanzate norme dei populismi, ma l'origine di questo è una società depolicizzata, abbandonata a se stessa, che delega tutto e spera nella delega, e dunque, diciamo così, anche in una visione europea, un'Europa democratica di sinistra, diciamo così, rispetto ad un'Europa di destra, è un'Europa in cui i cittadini partecipano attivamente alla vita politica e non sono solo portatori di voti e consumatori di servizi. Ma rischiamo di trovarci in un'Europa sovranista a lunedì? Io non sono, come posso dire, non è il mio mestiere fare previsioni, quelle che si danno sembra che ci sia un'avanzata, ma certamente non una preponderanza assoluta di questa contraddizione in termini che sarebbe sovranismo nazionale in un'Europa. Perché l'Europa di oggi non funziona? Dipende da ciascun cittadino d'Europa in che direzione va l'Europa, quanta capacità di riforma ci sia, quanta capacità di innovazione ci sia. La posta in gioco è in mano ai cittadini, non solo nel voto, è questo che voglio dire. La composizione del Parlamento europeo è certo che influisce sulla situazione dell'Europa, ma non influisce al punto di essere in grado di risanare i problemi dell'Europa, se non c'è quella che si chiama veramente una partecipazione attiva di cittadini che dovrebbero chiamarsi citoyens alla francese, che è un cittadino che si pone il problema del suo essere al mondo e non pensa solo di delegare. Siamo ancora all'identificazione, nel capo, col modello, col partito, col movimento. E quindi la posta in gioco del destino dell'Europa per me è quanta capacità di espressione della potenza di cittadinanza l'Europa è in grado di generare. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Questa Europa che in gran parte va a una deriva d'odio, è la prospettiva più pericolosa possibile. Per cui, diceva un filosofo che la speranza non è una virtù della ragione, quindi neanche tanto sperare, ma rimboccarsi le maniche e dire ma cosa mi si chiede a me come cittadino per essere felice? Mi si chiede di votare una volta ogni cinque anni e di pagare le tasse? Un 40% non va più a votare, chi può non paga più le tasse, in queste condizioni io deligo agli altri la mia felicità. Non funziona più questo modello, questo è la mia ossessione. Nell'ultimo mese abbiamo visto comunque anche una reazione contro una propaganda sovranista. Finalmente, dopo tanto tempo, sono comparsi i lenzuoli alle finestre, nell'università comincia a muoversi la gente, Lucano l'hanno chiamato all'università, un'insofferenza giovanile nei confronti di questa deriva comincia a emergere, sono i primi segnali, ma sono segnali interessanti perché erano segnali che fino a quattro o cinque mesi fa non c'erano. E quindi da questo punto di vista si apre uno spiraglio interessante. Questa riscossa coincide con la sinistra in Italia? La sinistra dovrà capire che non basta dire cosa bisogna fare, ma come bisogna farlo e con chi farlo. Ma con chi farlo non vuol dire con l'approvazione di chi, con la cooperazione, per me la parola strategica in questo momento è cooperazione, non rappresentanza. E questa è la direzione che ha voluto dare Zingaretti quando è stato nominato segretario. Ci sta riuscendo? Ma adesso io sento che si è ottenuto l'unità, che si è allargato il campo, mi sembra che era ancora campo di adesioni a un'identità piuttosto che azioni. Io vorrei ricordare che noi abbiamo perso la seconda guerra mondiale e in 15 anni siamo arrivati negli anni 60 al boom economico, essendo uno dei paesi più importanti al mondo e c'erano le sezioni del partito, c'erano le parocchie, che erano anche quelli luoghi in qualche modo di composizione sociale, al di là delle posizioni. Adesso la famosa società liquida ha bisogno molto di più di corpi intermedi. Ci vuole un partito solido nella società liquida, ma solido non vuol dire burocraticamente organizzato, vuol dire capace di solidificare la società, di dare potenza, dignità, attività alla società, una società viva, non una società di consumatori di servizi e basta. Sarebbe plausibile un'azione comune tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in funzione antilega? Io vorrei sapere, basta essere un bambino che conta fino a 10 per chiedersi se tu hai anche il 25% come vai al governo. e dunque, io anche con Cacciari ne avevamo parlato, mi sembra anche giusto a suo tempo, il 4 marzo, vedere se quel contratto che la Lega al 17% ha fatto con i grillini al 33%, poteva provare a farlo un PD al 18% con i grillini al 33%. Adesso la Lega è al 30%, i gridini sono al 22%. Il Partito Democratico rischia di pagare questo mancato accordo anche alle urne? L'ha già pagato con il governo di Lega 5 Stelle. Adesso sotto elezioni posso anche capire che uno non si sbilanci, ma dopo da qualche parte dovrai trovare alleati. In un sistema proporzionale non si mette nessuno alla posizione al governo, perché si devono comporre alleanze per fare il governo, perché non abbiamo notizie di partiti che abbiano mai preso il 51% in Italia. Non hai altre alternative che non riconquistare società, ma nel senso non la fiducia della società, ma un meccanemico di controfiducia, dare fiducia a cittadini. Fra l'altro c'è una quantità di intelligenza, di disponibilità in questo paese, come imparato in tutti i paesi. Quella deve essere sollecitata, convocata, organizzata. È un impegno politico, quotidiano. Lei è ottimista? No, mi dichiaro disperatamente, al di là di Gramsci, che diceva appunto, parlava del pessimismo della ragione, dell'ottimismo della volontà, io mi vivo nella disperazione della ragione, nel velleitarismo della volontà. Quindi io sono veramente ben poco ottimista, ma tuttavia combattere bisogna anche quando non si è proprio agio, diciamo. Grazie. 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 Grazie.